Una donna andriese è stata denunciata dagli agenti della polizia locale perché avrebbe investito una cinquantenne finita poi in ospedale senza fermarsi per i soccorsi. L'automobilista a cui è stata ritirata la patente e sequestrata l'auto risponde di omissione di soccorso e lesioni personali colpose. Secondo quanto ricostruito l'episodio ieri mattina in via Pasubio, strada a ridosso del centro cittadino con una utilitaria di colore rosso a travolgere il pedone a proseguire senza fermarsi. La vittima è stata soccorsa subito dal personale del 118 e trasportata all'ospedale Bonomo della città per le ferite riportate. Le sue condizioni però non sarebbero gravi e non sarebbe soprattutto in pericolo di vita. I vigili urbani hanno avviato le indagini allora e sono riusciti a individuare il presunto responsabile non solo grazie all'analisi delle immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza della zona ma anche attraverso l'esame di un pezzo della carrozzeria dell'auto trovato sul posto. Grazie.